Percy? Ma aeroplani o cannibali? Che domande! Percy avrebbe preferito guidare la Cadillac di Nonna Jung fino in Alaska inseguito da orchi e palle infocate, piuttosto che starsene seduto lì, in quel jet di lusso. Non era la prima volta che volava. I dettagli erano confusi, ma ricordava un Pegaso di nome Black Jack. Aveva perfino viaggiato in aereo un paio di volte, ma un figlio di Nettuno, o di Posidone che fosse, non apparteneva all'aria. Ogni volta che l'aereo incontrava una turbolenza, il cuore di Percy accelerava, con la certezza che Giove stesse dando loro una bella scrollata. Cercò di concentrarsi sui discorsi di Frank e Hazel. Lei lo stava rassicurando, dicendogli che aveva fatto tutto il possibile per sua nonna. Frank li aveva salvati dai Lestrigoni e li aveva fatti uscire da Vancouver. Era stato incredibilmente coraggioso. Il figlio di Marte teneva la testa bassa come se si vergognasse di avere pianto, ma persino lo biasimava. Povero ragazzo, aveva appena perso la nonna e visto la propria casa andare in fiamme. Per quanto lo riguardava, versare qualche lacrima per una cosa del genere non ti rendeva meno uomo, tanto più se avevi appena sconfitto un esercito di orchi che volevano mangiarti a colazione. Percy non riusciva ancora a farsi una ragione del fatto che Frank fosse un suo lontano parente. Era il suo... cosa? Bis, bis, mille volte bis, nipote? Era un concetto troppo assurdo per definirlo a parole. Frank si rifiutava di spiegare che cosa fosse di preciso il suo dono di famiglia, ma mentre volavano verso Nord raccontò a loro della conversazione avuta con Marte la sera prima. Parlò anche della profezia che Giunone aveva pronunciato quando lui era piccolo, di come la sua vita fosse legata a un pezzo di legno e rivelò a Percy che aveva chiesto a Hazel di custodirlo per lui. Una parte di tutto ciò il figlio di Nettuno l'aveva già intuita. Hazel e Frank avevano senza dubbio condiviso un'esperienza pazzesca quando avevano perso conoscenza insieme e Percy aveva capito che avevano stretto un patto di qualche tipo. Questo spiegava anche perché, per abitudine, ogni tanto Frank continuasse a tastarsi la tasca del giubbotto e perché il fuoco lo innervosisse tanto. Tuttavia, Percy non riusciva a immaginare quanto coraggio gli ci fosse voluto per imbarcarsi in quella missione sapendo che sarebbe bastata una sola piccola fiammella a spegnere la sua vita. Frank, sono fiero di essere tuo parente. Le orecchie del figlio di Marte divennero subito rosse. Con la testa china, il taglio militare dei suoi capelli disegnava una freccia nera affilata che puntava verso il basso. Giunone ha un piano per noi, qualcosa che riguarda la zia dei sette. «Sì», borbottò Percy, «già la detestavo come era. Come giunone la detesto ancora di più». Hazel raccolse le gambe sul sedile. Con i suoi luminosi occhi dorati studiò Percy e lui si chiese come facesse a restare così calma. Era la più piccola dei tre, ma era lei a tenerli uniti e a confortarli sempre. Ora stavano volando verso l'Alaska, il luogo in cui era già morta una volta. Avrebbero cercato di liberare Thanatos, che forse l'avrebbe riportata negli inferi. Eppure non mostrava la minima paura. Percy si sentì sciocco per il suo terrore degli aeroplani. «Tu sei figlio di Poseidone, giusto?» gli chiese lei. «Perciò sei un semidio greco». Percy strinse forte la propria collana di cuoio. Ho cominciato a ricordare a Portland dopo il sangue della gorgone. E da lì ha cominciato a tornarmi tutto in mente. Esiste un altro campo. Il campo mezzo sangue. Si sentiva scaldare il cuore solo a pronunciarne il nome. Fu inondato da bei ricordi. Il profumo dei campi di fragole al sole caldo dell'estate, i fuochi d'artificio che illuminavano la spiaggia per la festa del 4 luglio, i satiri che suonavano il flauto intorno al fuoco, e un bacio sul fondo del lago delle canoe. Eisel e Frank lo fissavano come se all'improvviso avesse iniziato a parlare in un'altra lingua. «Un altro campo», ripete la ragazza. «Un campo greco?» «Santi nomi, se Ottaviano lo scoprisse, dichiarerebbe guerra», concluse Frank. «È sempre stato certo che ci fossero dei semidei greci in circolazione a complottare contro di noi. Pensava che Percy fosse una spia. È per questo che Giunone mi ha mandato», disse Percy. «Eh, cioè, non per fare la spia. Penso che sia stato una specie di scambio. Il vostro amico Jason credo che sia stato mandato nel mio campo. In sogno ho visto un semidio che potrebbe essere lui. Lavorava con altri semidei a una nave da guerra volante. Credo che stiano venendo al Campogiove per aiutarci.» Frank tamburellò nervoso le dita sullo schienale del sedile. «Marte ha detto che Giunone vuole unire i greci e i romani per combattere contro Gea. Ma cavoli, tra greci e romani non scorre buon sangue da… da moltissimo tempo.» Eisel trasse un respiro profondo. «Probabilmente è per questo che gli dèi ci hanno tenuto separati così a lungo. Se una nave da guerra greca comparisse nel cielo del Campogiove e se Reina non sapesse che ha intenzioni amichevoli, dobbiamo stare attenti a come glielo spiegheremo al ritorno.» «Se ci sarà un ritorno», precisò Frank. Persi a noi con riluttanza. «Mi fido di voi, ragazzi, e spero che voi vi fidiate di me. Mi sento… beh, mi sento vicino a voi quanto ai miei vecchi amici al Campo Mezzosangue. Ma con gli altri semidei, in entrambi i campi, nasceranno molti sospetti.» Eisel fece una cosa che lo colse totalmente all'aspro vista. Si sporse in avanti e gli diede un bacio su una guancia. Come una sorella, chiaro? Ma gli sorrise con un affetto tale, che Persi si sentì scaldare fino al midollo. «Certo che ci fidiamo di te», disse la ragazza. «Ora siamo una famiglia. Vero, Frank?» «Certo», confermò lui. «Dai un bacio anche a me?» Eisel fece una risatina nervosa. «Comunque, ora che facciamo?» Persi trasse un respiro profondo. Il tempo correva in fretta. Erano già quasi a metà giornata del 23 giugno e il giorno dopo era la festa della fortuna. «Devo contattare qualcuno per mantenere la promessa fatta a Ella.» «Come?» chiese Frank. «Con uno di quei messaggi iride.» Persi scosse la testa. «Il sistema è ancora fuori uso. Ci ho provato ieri sera, da casa di tua nonna.» «Niente da fare.» «Forse perché i miei ricordi sono ancora confusi.» «Oppure gli dèi non permettono la connessione.» «Spero di contattare il mio amico in sogno.» Un altro scossone di turbolenza lo fece aggrappare al sedile. Sotto di loro montagne incappucciate di neve svettavano da una coltre di nuvole. Non so se riuscirò a dormire, ma devo provarci. Non possiamo lasciare Ella da sola con quegli orchi in circolazione.» «Giusto», disse Frank. «Abbiamo ancora diverse ore di volo. Prenditi il divano, amico.» Persi annui. Si sentiva fortunato ad avere Hazel e Frank che vegliavano per lui. Quello che aveva detto era vero, si fidava di loro. In quella assurda, terrificante, orribile esperienza di perdere la memoria e vedersi strappare il proprio passato. Hazel e Frank erano due fari di luce. Si allungò sul divano, chiuse gli occhi e sognò di precipitare da una montagna di ghiaccio incontro a un mare gelido. Il sogno cambiò. Era di nuovo a Vancouver, di fronte alle macerie di casa Jung. I lestrigoni se n'erano andati. La villa era ridotta a uno scheletro bruciato. Una squadra di pompieri stava riponendo le attrezzature e si preparava a partire. Il prato sembrava un'area di guerra, pieno di crateri e trincee scavate dai tubi di irrigazione esplosi. Ai margini della foresta, un gigantesco cane nero balzava qua e là, fiutando gli alberi. I pompieri lo ignorarono completamente. Inginocchiato accanto a uno dei crateri, c'era un ciclope, vestito con un paio di jeans, gli anfibi e una camicia di flanella, tutto di taglia XXXL. I capelli castani e spettinati erano sporchi di pioggia e fango. Quando alzò la testa, il suo grande occhio castano era rosso di lacrime. «Vicino!» gemette. «Vicino!» «Sparito!» Percy si sentì spezzare il cuore, sentendo il dolore e la preoccupazione in quella voce, ma sapeva di avere solo pochi secondi per parlare. La visione stava già cominciando ad appannarsi ai bordi. Se l'Alaska era la terra oltre gli dèi, intuiva che più si avventuravano verso nord, più sarebbe diventato difficile comunicare con gli amici, perfino in sogno. «Tyson!» chiamò. Il ciclope si guardò freneticamente intorno. «Persi? Fratello?» «Tyson, sto bene. Sono qui. Ebbè, non proprio». «Tyson afferrò l'aria, come per acchiappare le farfalle. Non ti vedo! Dove sei, fratello?» «Tyson, sono in aereo. Sto andando in Alaska. Sto bene. Tornerò. Tu trova Ella. È un'arpia con le piume rosse. È nascosta nel bosco intorno alla casa». «Un'arpia rossa? Sì! Proteggila, ok? È amica mia. Riportala in California. C'è un campo di semidei sulle colline di Oakland. Il campo Giove. Aspettami sopra il Caldecott Tunnel. Colline di Oakland. California. Caldecott Tunnel». Il ciclope gridò il cane. «Signora O'Leri! Dobbiamo trovare un'arpia!» «Bau!» rispose il cane. «Mio fratello sta bene? Mio fratello torna?» Il volto di Tyson cominciò a dissolversi. «A Tyson manca, persi! Anche tu mi manchi!» Persi si sforzò di tenere la voce ferma. «Ci vediamo presto! Sta attento! C'è un esercito capeggiato da un gigante in marcia verso sud!» «Iad Annabeth che...» Il sogno cambiò. Persi si ritrovò sulle colline a nord del campo Giove, a scrutare Nuova Roma in lontananza. Al forte della legione i corni suonavano. I ragazzi si stavano radunando. L'esercito del gigante era schierato alla destra e alla sinistra di Persi. Centauri con le corna taurine, Ghigenisa sei braccia e ciclopi malvagi con le armature fatte di metallo di scarto. La torre d'assedio dei ciclopi gettava un'ombra ai piedi di Polibote che scrutava con un ghigno il campo romano. Camminava con impazienza avanti e indietro. I serpenti piovevano dai dredd verdi e le possenti gambe di drago abbattevano gli alberelli che intralciavano il suo cammino. Sull'armatura blu-verde i volti ornamentali dei mostri affamati sembravano strizzare gli occhi nell'ombra. Sì, ridacchiò, piantando a terra il tridente. Suonate i vostri piccoli corni, romani. Sono venuto a distruggervi. Steno! La gorgone sbuccò sollecita dai cespugli. La sua chioma di vipere verde acido e il grembiole dell'ipermercato cozzavano terribilmente con i colori del gigante. Sì, padrone, rispose. Desidera un bel cucciolotto piccante? Un cucciolo? Non sono cuccioli veri. Sono dei salsicciotti piccanti in offerta questa settimana. Lasciamo perdere. Le nostre forze sono pronte per l'attacco. Steno arretrò alla svelta per non farsi schiacciare dal piede di polibote. Quasi. Oh, immenso. Mamma Cinghi e la metà dei ciclopi si sono fermati a Napa. Per il giro delle cantine, mi pare. Hanno promesso di raggiungerci entro domani sera. Cosa? Il gigante si guardò intorno, come se si accorgesse solo ora che una piccola porzione del suo esercito era assente. Quella ciclope mi farà venire l'ulcera prima o poi. Il giro delle cantine? Credo che servano anche degli assaggini. Chiaristeno sollecita. Certo, all'ipermercato abbiamo offerte migliori, ma ciclopi! Infuriato, Polibotes radicò una quercia dal terreno e la scaraventò nella valle. Quando avrò distrutto Nettuno e conquistato gli oceani, rinegocierò il contratto di lavoro dei ciclopi. Mamma Cinghi e imparerà a stare al suo posto. Ora, che notizie abbiamo dal nord? I semidei sono partiti per l'Alaska, rispose Steno. Stanno volando dritti verso la morte. La loro morte, cioè non Thanatos. Anche se suppongo che stiano volando anche verso di lui. Polibote ringhiò. Alcione farà meglio a risparmiare il figlio di Nettuno, come ha promesso. Voglio vederlo incatenato ai miei piedi, per ucciderlo quando i tempi saranno maturi. Il suo sangue bagnerà le pietre del Monte Olimpo e desterà la madre terra! Notizie delle Amazzoni? Tutto tace, rispose Steno. Non sappiamo ancora chi abbia vinto nel duello di ieri notte, ma è solo questione di tempo. Otrera vincerà e verrà ad aiutarci. Polibote si grattò via qualche vipera dai capelli. Tanto vale aspettare allora. Domani al tramonto sarà la festa della fortuna e cominceremo l'invasione. Amazzoni o meno. Nel frattempo datevi da fare. Ci accamperemo quassù in alto. Sì, oh immenso. Steno annunciò alle truppe. Cucciolotti piccanti per tutti! I mostri esultarono. Polibote allargò le mani di fronte a sé, inquadrando la valle come per scattare una foto panoramica. Sì, suonate i vostri piccoli corni, semidei. Presto il retaggio di Roma sarà distrutto una volta per tutte! Il sogno si affievolì e si spense. Persi si svegliò di soprassalto. L'aereo stava cominciando a scendere di quota. Hazel gli posò una mano sulla spalla. Riposato bene? Il figlio di Nettuno si mise a sedere un po' intontito. Per quanto tempo ha... Qualche ora, rispose Frank. Era in piedi nel corridoio e stava riponendo la lancia e l'arco nella borsa da sci. Siamo quasi arrivati. Persi guardò fuori dal finestrino. Un piccolo squarcio di mare scintillò tra le montagne innevate. In lontananza una città si stagliava come scolpita nella natura selvaggia, circondata da rigogliose foreste da un lato e da spiagge nere ghiacciate dall'altro. Benvenuti in Alaska! Esclamò Hazel. Siamo oltre ogni possibilità di aiuto da parte degli dèi.